Le imprese che esercitano attività di autotrasporto con sede legale a unità operativa in Sicilia potranno accedere ai contributi pubblici. Una novità che arriva a seguito dell'approvazione da parte della Regione Sicilia del bando per la concessione di contributi a fondo perduto in favore degli autotrasportatori che varcano lo stretto di Messina. Nel dettaglio gli aiuti, per un totale di 10 milioni di euro, sono destinati all'imbarco dei mezzi con massa pieno carico superiore a 3 tonnellate e mezzo su qualunque vettore che svolga il servizio di attraversamento marittimo dello stretto di Messina. A renderlo noto l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone. Nei mesi scorsi, ha dichiarato l'esponente del governo Musumeci, gli autotrasportatori siciliani stremati da crisi pandemiche e caro carburante avevano avviato una mobilitazione culminata nei blocchi stradali in tutta l'isola. In quel contesto avevamo promesso aiuti per 10 milioni di euro alle imprese soffocate dai rincari sull'attraversamento dello stretto. Proprio durante la protesta al casello A18 di San Gregorio di Catania nel febbraio scorso il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore Falcone avevano incontrato i manifestanti garantendo un intervento.